Benvenuti, benvenuti, benvenuti a tutti. Come presidente del consorzio Memoria Festival porto i saluti dei miei colleghi, del consiglio direttivo, i soci, l'amministrazione del comune di Mirandola e naturalmente anche del nostro partner editoriale Einaudi. Siamo emozionati, onoratissimi di avere oggi ospiti d'eccezione, Riccardo Calimani, Riccardo Disegni, i migliori più titolati per guidare il conto di oggi. Riccardo Disegni, rabbino capo della comunità di Roma dal 2001 e anche autore di numerosi studi sul pensiero ebraico e Riccardo Calimani, anche egli un eminente studioso soprattutto di storia, dell'ebraismo, scritto sul ghetto di Venezia ma su moltissimi temi. Noi al festival abbiamo sempre dalla sua fondazione un filone picchiano naturalmente, il genius loci, abbiamo sempre tutti gli anni delle lezioni su Giovanni Picco e nel corso di questi sette anni, il festival è nato nel 2016, abbiamo avuto anche degli incontri sul rapporto tra Giovanni Picco e l'ebraismo, la cabala soprattutto. Io come presidente mi impegno ad avere sempre questa presenza non solo del rapporto tra Giovanni Picco e l'ebraismo ma in generale del dialogo con l'ebraismo al festival, con la nostra cultura in generale, da italiani, europei e cittadini del mondo. Io vi ringrazio moltissimo di essere qui, sono ansiosa di ascoltarvi, siamo tutti felici di ascoltarvi, grazie e buon ascolto, grazie mille di essere con noi a Mirandola. Giovanni Picco ha fatto un grande passo per divulgare la materia ebraica. Giovanni Picco con le sue enormi capacità intellettuali si avvicinò alla mistica ebraica, alla cabala. Fu insieme a una cerchia di dotti che lo aiutarono a capire questo messaggio e lui lo utilizzò con il concetto che si trattava di una dottrina originaria e che questa dottrina serviva a dimostrare dalle origini della storia la verità, la verità di Cristo. e questo l'ha detto, l'ha scritto, l'ha dimostrato in tutti i modi possibili. Io ho sempre avuto di aver avvicinarsi a dei testi che altrimenti non avrebbero, non gli avrebbero reso la vita facile. Studiare testi così strani di una tradizione presente nel territorio ma comunque considerata sempre con grande diffidenza, avvicinarsi a questa cultura poteva destare sospetti e anche persecuzioni. Non stiamo parlando di periodi tolleranti. Quindi tutta questa grande operazione che ha fatto lui come in qualche modo ambigua. Si tratta in ogni caso di un tentativo di avvicinamento all'ebraismo e questo ente misterioso di cui stasera stiamo parlando. Adesso però parla Calimani. Io ho chiesto un giorno al rabbino Disegni se accettava di fare un confronto con me che avremmo potuto pubblicare. Confesso che temevo un rifiuto e sono stato molto contento che abbia accettato. Ci conosciamo però da oltre 50 anni perché lui è stato medico radiologo a Venezia e abbiamo cominciato a scambiarci questi prima dei messaggi e poi delle pagine tant'è che il libro uscirà dai Naudi al primo di novembre con il titolo Chi è ebreo sull'ebreo e sull'ebraismo. Di ebrei si parla anche troppo. Ma con voi per domandarvi quanti sono gli ebrei in Italia riceverei le risposte le più strampalate. Perché appunto, perché succede questo? Per un motivo molto semplice. Se voi vedete mille palline bianche e una nera voi vedete palline bianche e nere. Come a dire che la minoranza è sovraesposta e sovrastimata. Questa sovraesposizione nasce da un periodo buio con Benito Mussolini, 40 milioni di cittadini italiani e 40 mila ebrei. Eppure Mussolini riuscì a convincere o a cercare di convincere gli italiani che facevano professione di fascismo che gli ebrei erano potentissimi. E questo pregiudizio rimane perché è molto facile disseminare cattive idee o idee strampalate in un terreno piuttosto che bonificarlo. Il mio scopo quando ho cominciato a scrivere è sempre stato quello di mettere in evidenza, anche con una certa schiettezza quasi brutale, questi temi. Tant'è che ho scritto un libro, Gesù ebreo, usando fonti cristiane, dove questo libro ha suscitato polemiche, ma dove si mostra con chiarezza che Gesù era un buon ebreo. Adesso non so cosa ne pensi il rabbino di Segni, ma guardando i testi, semmai sono stati i suoi seguaci che hanno in qualche modo cambiato il suo messaggio. E comunque quello che è bello nel mondo ebraico è che non esiste, fonica, stavo discutendo con il rabbino Toaf e lo chiamavano rabbino capo, rabbino capo. Allora io un po' per scherzo, un po' per provocazione gli ho detto, Rav Toaf, ma non gliel'ha spiegato che i rabbini sono tutti capi. E quindi noi, e lui si è messo a ridere e ha detto, cosa vuole che faccia? È tutta la vita che mi chiamano rabbino capo. E allora lascio che lo pensino. Ecco. Questi paradossi sono i tunnel del pensiero. Se io vi chiedessi, lo chiedo al rabbino di Segni, la differenza tra ebreo, giudeo, israelita, israeliano, sionista e semita. Una volta l'ho chiesto a un autorevole personaggio che era presidente della RAI che si è messo a ridere. Cioè, no, è troppo. Hai messo molta carne al fuoco. Ok. Allora cominciamo dalla domanda. Nella storia dell'ebraismo i nomi con cui gli ebrei si sono identificati e altri li hanno identificati, si sono accumulati a segno di una identità complessa, a segno di un passaggio storico. E oggi poi ce l'abbiamo tutti quanti nel vocabolario più o meno comune dotto o non dotto e dobbiamo fare i conti con questi termini che molto genericamente sono dei sinonimi. Allora, il primo termine che compare nella storia è quello di, in ebraico, ivri, che tradotto in italiano è ebreo. Ivri può significare, è riferito ad Abramo, che è praticamente il patriarca fondatore e ha questo significato in quanto tecnicamente lui è discendente di un personaggio che si chiamava Ever, quindi discendente di Ever. Ma Ever significa che lui veniva muovendosi verso la terra di Canaan, veniva dal nord nord-est e quindi aveva fatto la sua famiglia dalla Babilonia, poi quella che adesso è la Siria e poi era sceso giù. Quindi è uno, oggi, il termine adesso equivoco, Ever significa trans, ok? E quindi lui era un trans, oggi significa tutte altre cose essere trans, ma a quell'epoca era un trans, diciamo, geografico-culturale. E quindi ivri è quello che viene dall'altra parte. E con questo termine gli ebrei che scendono in Egitto sono chiamati. E questo è il primo termine che, dal punto di vista concettuale e religioso, ha ancora, sì, ha delle rilevanze simboliche, ma non sono esplicite. Il secondo termine che compare nella storia, almeno secondo nella narrazione biblica, è quello di Israel. Ed è il nome che viene dato al Patriarche, a Giacobbe, dopo che ha passato una notte intera a lottare con l'angelo. E questo nome contiene in sé la parola finale El, che significa Dio, e di etimologia complessa e difficile da decodificare, ma che potrebbe significare quello che ha lottato con Dio, o quello che ha litigato con Dio. L'ebreo lo fa di mestiere, litiga continuamente con Dio e quindi lo porta nella sua accezione. Quindi, da quel momento, i suoi discendenti sono chiamati i figli di Israele o Israeliti. Uno dei figli, nel senso letterale del termine, di Giacobbe, Israele, è Yehuda, Giuda. E nella storia ebraica, a un certo punto, la statalità ebraica del popolo di Israele si divide in due parti. Un regno del nord, il regno di Israele, e un regno del sud, che è il regno di Giudea. Il regno di Israele viene sconfitto e annichilato dagli assiri e rimane il regno di Giudea, che sta, capitale a Gerusalemme. Per cui, quelli che sono là, sono chiamati i Giudei, perché stanno nella Giudea. Allora, questi tre nomi, gli ebrei si riportano appresso nella storia. Quindi sono ebrei, sono israeliti, sono Giudei. Ovunque vadano questi nomi, vengono presi e utilizzati da un contesto che molto spesso è un contesto ostile e diventano anche portatori di cariche di ostilità e di disprezzo. Per cui dire a qualcuno che è ebreo, oppure giudeo, è considerato in alcune accezioni linguistiche, regionali o negli stati, come un'offesa. Sapete? Da queste parti forse non succede, ma dalle parti mie, per offendere i laziali, negli striscioni, dicono laziale ebreo. Come se fosse la peggiore accusa infamante. Oppure romanista, ebreo. Perché voi a Roma avete un tifo molto acceso. Va anche detto che israelita poi verso nell'Ottocento diventa più elegante di ebreo e quindi viene usato anche come comunità israelitiche. Sì, però poi succede che viene fondato lo Stato di Israele e quindi gli abitanti dello Stato di Israele non sono israeliti, ma sono israeliani. Ora si può essere israelita senza essere cittadino dello Stato di Israele, si può essere israeliano senza essere israelita. E questo complica terribilmente le cose. E poi in italiano, ebreo indica la persona e ebraico è l'aggettivo della cosa, per cui esiste un libro ebraico, non esiste un libro ebreo. Però è sempre più complicato. Ha detto che uno può essere sionista senza essere ebreo, nel senso che i sionisti sono quelli che appoggiano e favoriscono la nascita dello Stato di Israele nel 1948. E va anche detto che la parola semita è una parola recente, frutto della cultura positivista, scientista della fine del Settecento, quando siamo arrivati a dividere le popolazioni mondiali in razze. L'idea di razza è un'idea moderna. La parola antisemita nasce negli anni settanta dell'Ottocento a Vienna. Oggi si confonde molto tra antigiudaismo e antisemitismo. E sono due cose profondamente diverse. Lascio a te. Sì, tra l'altro, secondo questa classificazione grossolana, i popoli arabi anche loro sono semiti. E quindi se uno è antisemita dovrebbe avercela pure con gli arabi. In realtà molto spesso succede che nell'ambito arabo sono antisemiti nel senso che ce l'hanno con gli ebrei. Quindi sono tutti termini che devono essere riadattati a contesti complicati. Siamo qua per confondervi le idee, come bene? No, per suscitare tanti interrogativi e sperare che non siano le risposte semplici che possono spiegare, ma che sono temi di grande complessità che in qualche modo vengono trascinati dalla storia e dalla quotidianità. Ecco, le fonti della tradizione ebraica, scritta e orale, sono molto chiare. Questo più per Rav Disegni che per me. Perché io penso che l'idea che Mosè sia andato sul Monte Sinai e abbia ricevuto la Torah e i Dieci Comandamenti è un'idea un po' più, come dire, popolare e leggendaria. mentre non so cosa ne pensa Rav Disegni che, come vi ho detto, è stata di grande apertura mentale ad accettare. Io non sono protetto da nessuno, ecco. Prego. Le fonti... Sì, ma io non alzo le mani, eh. Non... Cosa hai detto? Le fonti. Le fonti scritte e orali. Allora, l'ebraismo è una cultura, anche una cultura, che si basa su determinati testi fondanti. Il testo fondante numero uno è la Bibbia, dove per Bibbia si intende la Bibbia ebraica. Per i cristiani la Bibbia è fatta di un Antico Testamento o di un Nuovo Testamento. A noi la parola Antico Testamento non piace, ma comunque per Antico Testamento intendono i cristiani quella che è la Bibbia ebraica. La Bibbia ebraica che si compone a stavolta di tre parti fondamentali. La Torah, cioè il Pentateuco, i libri profetici e i libri ageografici. I salmi, i giobbe, i proverbi, i cinque rotoli e così via. Si tratta di un patrimonio antichissimo, la cui produzione è durata circa un millennio, con testi più antichi e testi più recenti. Per un ebreo osservante e credente sono libri ispirati e fondanti. Accanto a questi testi scritti si è sviluppata una tradizione che per molto tempo, per secoli, per distinguersi dalla tradizione scritta è stata tramandata oralmente. In forma scritta, naturalmente. Dopo. 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 Prima c'erano persone che facevano, erano praticamente dei testi della tradizione orale e stavano nelle scuole come una sorta di jukebox, spingevi il bottone e loro recitavano la fonte antica. E' funzionato così perché anticamente non si voleva mettere sullo stesso piano o mescolare la parte concordata e ispirata, scritta, con la tradizione orale che era fluida, che era in continua evoluzione e che ancora non veniva organizzata. Ma non per questo non meno importante. A un certo punto della storia, a seguito di una serie di sciagure politiche e nazionali, si è sentito la necessità di mettere per iscritto questo materiale, perché altrimenti sarebbe andato perduto. E quindi la tradizione orale è cominciata a diventare anche lei scritta. E quindi sono nate delle opere, ogni volta che è nata un'opera, su quest'opera si è lavorato ed è cresciuta, ed è cresciuta, ed è cresciuta, ed è nata un'altra opera. Tuttora va avanti così. Su ogni cosa che esce ci sta sempre un commento, un'elaborazione ulteriore e poi dall'elaborazione ulteriore nascerà un ulteriore testo. Così va avanti la tradizione. La Mishnah e poi il Talmud, che è il commento alla Mishnah. Ma credo che ci siano dei punti fondanti nel mondo ebraico. Uno è l'osservanza del sabato, l'altro sono le regole alimentari ebraiche e tutto questo ha creato grandi problemi tra la Roma antica e la Giudea. Anche oggi ci sono problemi su questo campo, in questo campo. In che senso? Allora qua cominciamo nei grandi paradossi e difficoltà della condizione ebraica. Non è che siamo stati semplicissimi neanche fino adesso. Sì, assolutamente. Praticamente che cosa significa essere ebreo? Significa appartenere a una religione? O appartenere ad una gente, a un'etnia, a una nazione, a un popolo? Cos'è importante? Perché se si tratta di una religione, ogni religione presuppone delle basi di fede, credere e dei comportamenti, osservare i precetti. Allora un ebreo che non crede o ha dei dubbi su quello su cui dovrebbe credere e non osserva, se non parzialmente o marginalmente, le regole, è ancora un ebreo o non lo è? E questa è la domanda che segue per i secoli e che adesso diventa ancora più drammatica. Ma in realtà la condizione ebraica è una condizione remota, perché questa identità nasce 33-34 secoli fa, in cui la distinzione tra appartenenza nazionale o religione non era così diversa e netta come è adesso. E quindi le classificazioni di oggi non possono essere adatte per classificare una realtà identitaria che è di antichità remota. Essere ebrei non sia ovviamente un fatto di fede, perché non ho fede, non sia un fatto razziale, perché come è noto esiste il razzismo, ma la razza non esiste. E credo che l'identificazione da parte di una persona col mondo ebraico sia un'identificazione che deve essere ideale. Naturalmente il ruolo dei rabbini è importante, ma come ho sempre detto in varie occasioni, i rabbini devono dimostrare più che l'autorità, l'autorevolezza. E quindi in questa flessibilità di scenari, io credo oggi che identificarsi nel mondo ebraico, nel destino ebraico, nella cultura ebraica, sia una scelta personale importante che va riconosciuta naturalmente dalle comunità, perché poi ci sono delle regole comunitarie, ma credo che il vecchio bagaglio culturale, religioso e tinto di stupido razzismo non abbia più senso. Il mondo moderno richiede una forte elasticità di pensiero e credo ancora fermamente che sia in Italia che nel mondo il fatto di essere ebrei sia altamente significativo, perché significa essere un po' la coscienza critica di un mondo un po' in difficoltà, per dirla lentamente. Su questo siamo ovviamente su opinioni diverse e io apprezzo la tolleranza di Rav Disegni che in qualche modo continua a discutere con me, anche se sa bene come io la penso. Siccome potete intuire da questo scambio di battute, la pensiamo in maniera radicalmente differente su questo punto, ok? Il primo capitolo del nostro libro sarà sulla definizione di ebreo, ok? Certo. Quando mi ha chiesto qual è la tua definizione, io ho detto che la mia definizione è quella che dà la tradizione. Ebrei si diventa in due modi, nascendo da un grembo femminile ebraico, una madre ebrea, oppure convertendosi all'ebraismo. La prima opzione è che ci nasce e basta. Che quindi non è che una persona sceglie, invece ci nasce e basta. La seconda opzione è invece, passa attraverso una scelta religiosa. È una grande difficoltà. Ed è uno dei problemi in cui ci si misura e si discute. Ed è una delle questioni più divisive oggi nel mondo ebraico. È divisiva perché molte persone vogliono sentirsi appartenenti all'ebraismo ma fanno difficoltà a prendersi impegni religiosi. L'impegno religioso dell'ebraismo è un impegno impegnativo, ok? Scusate il bistizio. Un bunale rabbinico che regola il processo di conversione. Deve studiare, deve capire quali sono le regole e deve mettere in pratica le regole. Le adempie in maniera così. Almeno ad ebrea ci rimane anche se non osserva le regole. Una persona che deve entrare all'ebraismo deve impegnarsi a osservare le regole. E su queste regole c'è una grande discussione, c'è una grandissima contestazione. Che ebreo è chi vuole esserlo, ok? E io gli ho risposto. Ma io pure vorrei essere tanto americano, cittadino degli Stati Uniti. Ma mica me la danno la cittadinanza così, eh? Io credo che la tua risposta sia giusta, ma per padre ebreo che non possono benissimo fare dei figli che poi decideranno loro quando saranno grandi, a che livello essere. Cioè bisogna mettere in queste antiche tradizioni un grado di scelta e di libertà che forse nel passato non era possibile e che nella società contemporanea è possibile. E quindi una volta non esisteva la moderna genetica e probabilmente questa regola, dico probabilmente, ma credo di andare vicino alla realtà, quando io appartenesse alla comunità ebraica di Palestina e di Israele. Oggi che c'è una moderna genetica si può arrivare a sapere bene le discendenze e siccome le discendenze di questo mondo ebraico sono... Noi abbiamo una grande fortuna, non abbiamo un papa. E quindi abbiamo tanti filoni nel mondo ebraico che magari sono in contrasto tra di loro. Io credo che bisogna... Vi faccio un esempio un po' paradossale. Sono andati nei ebrei sovietici, i ebrei russi. Chissà che eredità avevano prima e chissà quanto hanno fatto di pasticci per scappare dalla Russia. Voglio dire, ci sono dei processi storici complessi. Il mondo ebraico può fornire che è un contenuto che io ritengo essere molto ricco e importante possa prescindere dalle cosiddette origini. Sì, ebrei per motivi genetici. Vi faccio un esempio di un dibattito rituale molto attuale. La regola che vi ho detto prima è che l'ebreo è chi nasce da madre ebrea. Nell'eternità sblocata c'è una donna che dà l'ovulo e c'è una donna che può essere differente dalle due che si prende il bambino. Quindi ci sono tre diverse madri. Fin qui è chiaro? Allora, chi nasce da madre ebrea? Con ebrea o viceversa? Quale sarà la condizione di chi è nato? In altri tempi, il tempo materno o riguarda i geni? Allora, su questa nostra generazione che si sono occupati, si sono divisi, come è normale che succeda, tu dici non c'è il problema, è normale che succeda, la maternità che potremmo definire uterina, va bene? Allora, il discorso genetico è molto scivoloso e non è decisivo. Per quanto hai raccontato la storia degli ebrei russi e quando è crollato il muro, è crollata l'Union Estica, prima hanno cercato di andare in America, poi, visto che l'America aveva stretto le porte di accesso, c'è stato circa un milione di persone che sono andate in Israele, dove sono state accolte. Ma questo ha creato, ha consentito per lo Stato di Israele un enorme sviluppo su alcuni campi, soprattutto tecnologici, ma, d'altra parte, ha creato dei problemi sociali, perché in questo milione di persone, per cui tutte queste persone ora sono cittadini dello Stato di Israele, sono israeliani, ma una parte, non da poco, di queste persone non sono ebree, dal punto di vista religioso. E questo pone un problema. Da quello che dici, tu sei per la sanatoria, tutti quanti... Ah, scusa, c'è un concetto che vorremmo... Come pregissa? Proseditismo. Ok, ognuno sta bene dove sta ed è rispettato per quello che fa. Lui ha detto che io non amo molto i rabbini o cose del genere. Non è assolutamente vero. Per me i rabbini sono un punto di riferimento importante, ma debbano lasciare... A loro non va lasciato il monopolio della discussione e della scelta. Molto, devo dire, non so se tu sei d'accordo, ma molto affettuoso tra di noi. Però io credo che non... che è un obiettivo di Italia e quindi deve cercare di mostrare la massima cultura e credo di essere utile a lui e utile a me, che purtroppo ho molti dubbi e questo confronto mi permette di risolverli nel migliore dei modi possibili. Sì, nel senso che quando lui dice che è un... autoreo... Forse non obbedire che non è un bel... Vuoi dire tu più autorevolmente... Sì, c'è una parte molto importante della tradizione ebraica che riguarda l'alimentazione. L'alimentazione significa che esistono... e altre cose che possono mangiare. La più nota, popolarmente nota, è che gli ebrei non mangiano il maiale. C'è una vignetta famosa di due maiali che vedono Mosè che scende dal Sinai con l'età della legge e dice good news, buona notizia, almeno. in realtà questo sistema di regole è molto complesso prende origine da norme scritte nell'episcia che è scritto questi mangerete e questi non li mangerete. In altri casi c'è una tradizione che interpreta la regola scritta. La regola scritta per esempio dice non cucinerai il capretto nel latte della madre che potrebbe essere intesa semplicemente se è il latte della madre non puoi cucinarci il figlio ma che la tradizione intende in maniera molto più estensiva nel senso che non si possono mescolare nello stesso pasto servizi distinti di piatti di posate di pentola eccetera eccetera noi amiamo complicarci la vita gli animali che possono essere si parla di quadrupedi e dei volatili che possono essere che fanno parte della matriculazione rituale che è una tecnica che non fa soffrire gli animalisti protestano per questo ma noi riteniamo che non faccia soffrire l'animale deve passare attraverso una filiera organizzativa dalla diciamo le regole principali accanto alle regole principali c'è una grande discussione sul loro significato per esempio è noto diciamo la spiegazione di diversità igienica dicessimo secolo che era medico anche e dava una spiegazione igienica dicendo che determinati cibi fanno male alla salute altri hanno contestato pesantemente questa spiegazione perché hanno detto che sono i mediche e potremmo trovare anche una decina io penso di aver raccolto circa una quindicina di spiegazioni differenti del divieto di maiale a quelli igienico a quelli morali simbolici politici sostanza del discorso è che un ebreo osservante non osserva le regole alimentari perché hanno un motivo specifico che può essere quell'igienico eccetera 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 grande osserva perché sono state il grande punto interrogativo perché alcuni non li accettano altri lo fanno diciamo automaticamente altri lo fanno come segno diciamo identitario conosco le biografie di personaggi importanti anche nella vita politica italiana che si sono allontanati chilometri dall'osservanza ebraica però certe cose continuavano a non mangiarle sì per rendere la situazione un po' più letica un commissario del popolo va da un vecchio rabbino con la barba bianca potrebbe essere così come vedete un rabbino con l'espressione severa e con tono che non ammette discussioni gli intima di svelare quale sono le forme di ragionamento così speciali dette talmudiche per cui gli ebrei vanno famosi e per cui vengono considerati furbi ho paura che tu sia troppo vecchio dice il rabbino con un sospiro e aggiunge quando dobbiamo ammettere un bambino allo studio del talmud lo sottoponiamo a un test il rabbino allora comincia la prima domanda è questa due uomini cadono dentro un camino uno ne esce sporco e l'altro pulito quale dei due va a lavarsi quello sporco dice con prontezza il commissario sbagliato dice il rabbino con un sospiro sporco e l'altro pulito pensa incredibile cadere da un cammino senza sporcarsi quello pulito invece pensa ci siamo sporcati cadendo dal cammino e va a lavarsi il commissario ecco dice il rabbino due uomini cadono dentro un cammino uno esce sporco e uno pulito quello pulito no ribatte il vecchio rabbino sembra la stessa domanda ma adesso il problema è diverso si lava quello sporco perché il pulito vede quello sporco e pensa se doversi lavare poi si guarda poi si guarda le mani le vede nere e va a lavarsi il commissario il difficile chiede due uomini cadono dentro un cammino il commissario lo interrompe e dice inviperito ma è sempre la stessa domanda tu ti prendi gioco di me no sospono due uomini che cadono dentro un cammino uno ne dice un porco quello pulito no il commissario esita e mostra la sua incertezza dopo un lungo sospiro il rabbino con un tono pacato gli dice sporco sono pulito se non hai capito questo come puoi capire il Talmud è un cammino sporco o pulito come è possibile che due persone in due versioni quella babilonese e quella della terra di Israele chiamato anche Yerushalmi di Gerusalemme quella babilonese ha avuto un secolo più di gestazione perché a un certo punto il dominio bizantino sulla terra di Israele era diventato così oppressivo che per gli ebrei sotto l'impero persiano gli ebrei godivano di una certa tranquillità per cui il Talmud babilonese è un'opera più completa più organica più chiara ed è la raccolta della parte principale della tradizione orale fatta in maniera dialettica cioè non è la regola ma la discussione sulla regola fatta con questi tipi di logica non tutte le pagine sono così ma in molte pagine ci sono discussioni all'intelletto e si arriva eppure si arriva alla conclusione le conclusioni verranno fatte secoli dopo questo Talmud è praticamente il pilastro della formazione della formazione ebraica e della formazione rabbinica il Talmud abbiamo cominciato a trattare in italiano una decina di anni fa e quindi già sono disponibili alcuni volumi non è un testo semplice come avete individuato un testo assolutamente stimolante finalmente ce l'avete a disposizione in italiano ai 150 fogli un trattato come quello che sta uscendo in questi giorni che è il trattato di Succa che si occupa della capanna questo trattato tradotto in italiano con le dovute spiegazioni ecco noi abbiamo già parlato per 55 minuti quasi e non vi parliamo della seconda parte del libro che è sul sabato sulle feste ebraiche sul parlare di menighetti in Italia e in Europa e degli intellettuali ebrei europei il rapporto tra la nostra cattolica e gli ebrei e il rapporto tra gli ebrei e le altre religioni ci sarebbe ancora da parlare molto ma credo che siamo volentari se avete domande o curiosità io ho visitato alcune comunità qua intorno Ferrara Modena allora in Italia come nel resto sottilocito delle comunità ebraiche e significa che il numero delle persone che ne fanno parte si riduce progressivamente prima Riccardo Calimani all'inizio ha detto vi faccio la domanda di quanti sono gli ebrei in Italia oggi gli ebrei in Italia adesso io ho la risposta che qualcuno non ci crederà ma gli ebrei circa 24.000 poi ce ne sono altri ma il numero molto inferiore che non sono iscritti alle comunità quindi stiamo ragionando su questo tipo di dimensione 50 anni fa gli ebrei erano in Italia circa 35.000 quindi questo numero si sta contraendo perché si sta contraendo si sta contraendo per per processi migratori per contrazione della natalità tenete presente che l'Italia in generale è la natalità è più bassa di tutte quante e questo questo incide e quindi le piccole comunità tendono a contrarsi molto le più grandi comunità si parla di un grande relativo come Milano o Roma reggono ma poco per esempio dalle cifre che ho raccolto proprio quest'ultima settimana nella comunità ebrega di Roma il numero di morti questo è il procedimento in corso poi ci sono anche processi migratori e così via quindi è successo di tutto per cui ogni cosa può chissà adesso che Putin non ci regali un milione di ebrei e scappano nel senso che un tempo si diceva in Russia ci stanno un milione di ebrei io ho degli amici ebrei che però non si orgogliono le rente ebrei e ci tengono sempre a ribadirlo anche quando sono in presenza di persone che non li conoscono pur non seguendo le regole mangiando normalmente quello che mangiamo noi e poi mi è capitato anche degli ebrei russi e anche sono venuti russi e sono stati accolti in Israele perché ho capito che c'è una forte si aiutano tantissimo c'è persone che sono scopate pur non seguendo le regole da un forte senso d'appartenenza per cui sono sempre sono ebrei pur magari essendo nati in Romania in Ungheria oppure in altri e poi e quindi secondo me la religione non ha un popolo che è stato vuoi commentare sì è quello che si diceva prima la religiosa non è esclusiva perché c'è una componente genericamente ideologica perché si può pensare che l'ebraismo ha idee o istanze nell'identitario che è diffuso e anche molto forte questo fa parte della fondamentale dove gli ebrei possano vivere come nazi per la loro natura in Unione Sovietica il posto da cui questi scappavano non erano servanti né potevano essere perché lo Stato non ti consentiva perché eri subito seguito dagli agenti KCP eccetera eccetera però la Ucraina eccetera essere ebreo ce l'avevi scritto nel documento d'identità questo carriera nell'ambito della nazione è proprio la minoranza sarebbe stato ancora peggio ascoltate il racconto era ucraino ok lui per il fatto di essere ebreo c'è un antisemitismo di fondo che è un antisemitismo di tipo non razzista ma nazionale ok e quindi nell'ideologia sionista è il fatto che lo Stato di Israele debba servire appunto per dare questo spiega le chiedevo se poteva darmi però di solito questa definizione viene ci sono degli ebrei che sono credenti nella messianità di Gesù ci sono in Italia le due le due tipologie diciamo di ebrei allora esistono due blocchi fondamentali che sono e poi tutto diciamo il bacino mediterraneo e gli ebrei aschinaziti sono di entità molto differenti sul modo di vivere pregare eccetera eccetera dal punto di vista rituale di principio sono in Italia c'è di tutto soprattutto in conseguenza della persecuzione nazista i grandi blocchi esistenti in Italia sono quelli sefarditi di varie origini e quello autoctono italiano il nome che c'ha è aschinazite in Italia più o meno secondo i suoi calcoli c'è di scegliere dalla loro religione cioè è una cosa abbastanza che puoi diventare se ebreo se nasci da madre ebrea o se ti convegno guardi io posso dirle meno di dieci all'anno meno ci sono anche conversioni in altro senso ci sono anche degli ebrei che scappano la maggior parte non ci va più ma comunque gli ebrei che scappano ce ne sono di tutti uomini proprio in cui ci sono due linee e ci sono persone che vorrebbero fare di tutto per entrare l'ebreismo visto che il professor Calimani ci ha anticipato che nel libro il libro conterrà anche il poco che so lo so attraverso la storia della filosofia antica mi sposto perché un po' filone Alessandro di Pino secolo dopo Cristo ed era un personaggio davvero interessante perché scrive per esempio e scrive un trattato che chiama De Trinitate a un certo punto fa tutta una descrizione che richiama l'impressione un pochino ecco avendo studiato la storia del pensiero antico che i cristiani i primi cristiani questa comunione di spirito anche adesso i cristiani capiscono cos'è neanche sopra cos'è un bar mitzvah cos'è cos'è cosa ne pensa ve lo riporto al più ma provate a chiedere in giro cosa vuol dire la parola Cristo è preciso una parola greca e pochi sanno cosa vuol dire quindi come fanno i cristiani ad avere un'identità chiara se molti non sanno cosa vuol dire la parola Cristo lei ha parlato di separazione dei fratelli ebrei ma i primi cristiani erano ebrei la gravità della frattura è stata perché è stata una vita in famiglia sostanzialmente proprio ma loro le due strade si sono separate adesso il problema è se se nell'esperienza religiosa cristiana sia così fondamentale lo studio e la conoscenza come lo è nell'esperienza religiosa ebrega nell'esperienza religiosa ebrega una persona è tenuta a studiare da quando comincia ad avere strumenti intellettivi fino all'ultimo giorno della sua vita lo studio della Torah è una norma fondamentale è un approccio del tutto particolare all'esperienza religiosa questo tipo di approccio non credo che sia così vincolante nelle varie tradizioni cristiane o almeno in quella cattolica forse in altre sì quindi esiste un modello un modello culturale che è abbastanza differente grazie buon pomeriggio buongiorno volevo chiedervi forse avete già toccato l'argomento perché arrivando non troppo prestissimo non troppo presto Shoah e l'importanza della Shoah e dell'identità ebraica se c'è cioè se la Shoah ha dato un'ulteriore identità ebraica o se è un travisamento dei non ebrei perché molti non ebrei e la memoria degli ebrei come si fermano al periodo della Shoah e giorno della memoria quando tutti in un certo modo assumiamo un'identità ebraica grazie chiedo una risposta per entrambi da entrambi non cerco un dubbio che la Shoah costituisce un qualcosa di traumatico e di terribile io credo che limitare l'esistenza e l'identità è come se una persona non riuscisse a sfuggire dal trauma però certamente il trauma c'è stato ed è un trauma molto molto forte e credo che non sia stato ancora metabolizzato come dovrebbe esserlo dico dovrebbe esserlo perché la Shoah ha un problema e cioè che pone interrogativi che qualche volta non hanno risposta e domandarsi 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 è una cosa terribile e drammatica ma inevitabile quindi credo che non si tratti soltanto di un trauma per gli ebrei ma si tratti di un trauma per tutta l'umanità e anche il resto dell'umanità deve confrontarsi col fenomeno del totalitarismo vedete vedete che questo mondo è pervaso da figure largamente totalitarie e pericolose e quindi credo che ogni uomo cosciente soprattutto alla luce dei ricordi della seconda guerra mondiale non possa e non debba smettere di interrogarsi 5 aprile del 45 e l'unica esperienza che ho avuto è che mi chiamo Riccardo perché il fratello di mia madre è stato deportato in Germania durante la guerra e i miei si sono salvati perché sono riusciti a nascondersi in montagna e hanno superato la bufera anche loro che non erano particolarmente raffinati dal punto di vista culturale e anche mio padre era figlio di un cantore di sinagoga di un hasan però non era mai stato molto religioso hanno continuato a porsi domande ecco porsi domande dal punto di vista psicologico è una cosa molto pesante molto faticosa perché non ha mai fine è una ricerca in qualche modo senza fine credo che la condizione umana dopo la Shoah dovrebbe essere diversa per gli ebrei e anche per i non ebrei perché evidentemente questo tipo di orrenda questione non si debba ripresentare più nel mondo moderno perlomeno questo dovremmo cercare di fare tutti e mi pare però che sia come dire una battaglia senza fine è una battaglia molto difficile una volta tanto sono d'accordo con Calimani ecco io faccio una sistematica polemica contro le degenerazioni del ricordo della Shoah perché il trauma è stato tale che rischia di nascere una religione alternativa lo Shoismo qualche volta l'ho chiamato una religione con i suoi diti i suoi sacerdoti i suoi testi sacri che è una religione che però è basata sul racconto della morte quando invece l'ebraismo è esperienza di vita e quindi rimanere legati all'ebraismo perché ci sono dei morti da ricordare in parte è giustificato ma psicologicamente e religiosamente non è sano non è sano quindi noi stessi lottiamo per riuscire a trovare un equilibrio rispetto a quello che è successo ma non è affatto semplice sì forse abbiamo tempo ancora per una sola domanda vi chiedo solo di controllare l'orario mi hanno detto gli accompagnatori di RAF di Segni che deve raggiungere Bologna allora d'accordo ve lo ricordo per l'orario grazie io mi chiamo Franz sono francese ma vivo in Italia è stato providenziale essere qui io mi commuovo perché non sapevo dell'esistenza del festival memoria festival si chiama e sono arrivato qui e mi sono ritrovato sì a trovare voi e vorrei centrare sulla parola memoria mi sembra cogliere che siete due persone saggi apprezzo molto l'ironia è già un segno profondo per i nostri tempi io ho sentito il Papa Francesco oggi che prima dell'Angelus ha chiesto fortemente a tutte le autorità di scegliere la pace perché stiamo andando verso una direzione molto molto delicata ed è interessante perché io non mi ricordavo più che il terremoto era avvenuto dieci anni fa a a Mirandola avevo sentito parlare ma ho detto wow già dieci anni ed è vero che bisogna fare memoria sono arrivato qui ho chiesto a questa signora alla mia sinistra le ho parlato proprio della memoria ok mi sto chiedo scusa sì volevo centrare sulla memoria la Mirandola fa memoria ed è una forza gli ebrei io ho sempre colto che il popolo ebreo aveva una forza che era la sua il suo fare memoria penso che è la forza del popolo ebraico e oggi se non vogliamo ripetere gli stessi errori stavo pensando alla pandemia ho fatto questa domanda alla signora ma abbiamo vissuto due anni di pandemie e non so se abbiamo fatto memoria di questi due anni per scegliere e prendere la direzione giusta non so se ci siamo posti le giuste domande oggi io vorrei sentire la vostra saggezza un consiglio per così per vivere bene l'oggi e il domani secondo voi qualche non so se sono stato toccarne la domanda ma un messaggio di speranza insomma io credo che messaggi di speranza ce ne siano pochi l'unica cosa che bisogna fare per rafforzare la propria forza identità psichica è continuare a porsi delle domande il giorno in cui non ci si pone delle domande e si crede di aver capito tutto è il momento in cui cominciamo ad essere deboli e quindi proprio una tipica caratteristica del mondo ebraico talmudico è quello di continuare le domande del resto non è un caso che la ricerca senza fine sia stata una delle idee di Karl Popper io ho raccontato un giorno che ho conosciuto Karl Popper e gli ho chiesto ma lei è andato in Inghilterra durante gli anni del nazismo come ha vissuto la sua identità ebraica e lui ha fatto era già vecchio avrà avuto oltre 85 90 anni ha fatto un salto indietro e ha detto ah no 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 io non centro nulla solo mio padre e mia madre erano ebrei e detto da Karl Popper uno dei filosofi della scienza tra i più importanti nel mondo contemporaneo del novecento mi ha fatto molto sorridere e credo che la ricerca senza fine il porsi domande non avere mai dei dogmi definitivi sia la forza della ricerca nel mondo ebraico e la possibilità anche di risolvere in maniera armonica delle difficoltà concettuali psicologiche che nel mondo moderno sono inevitabili allora come è stato detto per noi la memoria è essenziale nel senso che abbiamo proprio dei rituali di memoria in cui dobbiamo ricordare quello che è successo anche quello che è successo 30-35 secoli fa noi lo ricordiamo perché è base della nostra della nostra identità ed è una scuola questa della memoria una delle prime cose che ho fatto quando è scoppiata la pandemia c'è stato il lockdown che tra l'altro abbiamo dovuto prendere in con una rapidità eccezionale delle decisioni sulla gestione della vita comunitaria la chiusura delle sinagoghe cose che insomma grosse decisioni una delle cose che ho fatto sono andato a rispolverare le storie delle precedenti pandemie ci sono delle testimonianze e queste mi hanno insegnato tante cose le storie delle precedenti pandemie cioè non è che stiamo scoprendo qualche cosa di nuovo va bene quello che dovremmo quello che ci ha insegnato la pandemia è qualche cosa che ci eravamo dimenticati ed è quello della nostra fragilità perché noi con lo sviluppo tecnologico pensiamo di essere arrivati a chissà cosa a controllare ogni cosa la pandemia ci ha dimostrato che noi controlliamo poco e anzi quando cerchiamo di controllare facciamo anche peggiori danni di quelli che che la pandemia stessa ha fatto quindi vivere e valutare le esperienze del passato è fondamentale per andare avanti però si va avanti e questo è il messaggio di speranza si va avanti non bisogna assolutamente fermarsi e farci tesoro di quello che ci è stato trasmesso per crescere meglio bene qui si vede che prima di essere rabbino capo a Roma il rabbino disegni era un medico che ha fatto per qualche decennio il medico in ospedale grazie